Sherry Birkin, sicurezza nazionale. Sherry Birkin, variara consente. Come fai a saperlo? Claire. Un momento, tu sei Chris? Mia sorella mi ha parlato di te. Chris. È un rivoltoso e un ricercato. Sì, è un mercenario, ma è sotto la protezione del governo degli Stati Uniti. Non è una minaccia per la BSA. Se non mi pagano per diventarlo. Che cosa hai detto? Che c'è? Niente. Fugia squadra Alpha. I rinforzi non possono aserrare a causa dell'artiglieria antiaerea. Eliminatela. Squadra Alpha, ricevuto. Cosa? Rileviamo sul radar un segnale enorme. Si dirige verso di voi. Parleremo dopo. Ora devi metterti al riparo. Squadra Alpha, ripoteremo il minuto. Quelle tre torrenti antiaerei non ci fanno avvicinare. Ricevuto, ecco. Ce ne occuperemo noi. Chris, vi daremo una mano. Non se ne parla. Provate a mettervi in salvo. Non ti preoccupare. Non ti preoccupare. E tu hai un'attività. Devo con sensibilità di sopravvivere. Ero soldato di vento. Non ti preoccupare. Credo. Non ti preoccupare. Non posso lavorare con quello in giro! Chris, sistemiamo uno di quelli più grossi! Sto piazzando le cariche! Sento! Arrivo! Distraete con la radiologica gigante! Non posso lavorare con quello in giro! Sto piazzando le cariche! Ancora un po' di tempo! Cariche piazzate! Tutti indietro! Ok, sul prossimo bersaglio! Sto piazzando! Sto piazzando! Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. 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 . Sì. 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 Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. 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 Sì, sì.